E in chiusura il concerto di David Bowie a Milano in occasione dell'uscita del suo nuovo album. Ci si aspettava un concerto in formato ridotto fatto apposta per promuovere le canzoni del nuovo album Hours e invece Bowie sorprende tutti sin dall'inizio attaccando con uno dei suoi brani storici Life on Mars scritta nel 71 con il pubblico in estasi a cantare al posto suo tutte le parole. Per questo appuntamento dal vivo che lo ha detto lui dal palco è stato il penultimo del millennio Bowie è apparso in forma smagliante e in conferenza stampa ma senza le televisioni ha anche dato dell'idiota a Celentano. Dei dieci brani di Hours, viaggio nella memoria e nel rimpianto di uno splendido 52enne, Bowie ne ha cantati soltanto cinque, questo è forse il più bello, Thursday's Child. Il telegiornale finisce qui, il prossimo appuntamento con il TG2.